cari amiche e cari amici bentornati sul canale di lady grace oggi voglio parlarvi di un romanzo che è considerato uno dei capisaldi del realismo francese ma del realismo come stile proprio a livello internazionale stiamo parlando di madame bovary chi di voi almeno una volta nella vita non ha sentito parlare di madame bovary gustave flaubert lui l'autore un autore che ha scritto questo questo testo che è diventato veramente uno dei capolavori del realismo francese dunque qualche notizia sull'epoca madame bovary esce nel 1856 appuntate appuntate sulla review de paris che era praticamente una rivista quindi uscì appuntate invece che tutto insieme e che cosa accade accade che questo testo questo romanzo subito attirò l'attenzione di quelli che erano i pubblici inquirenti dell'epoca e questo romanzo fu attaccato per immoralità e oscenità tant'è vero che flaubert ci finì letteralmente in tribunale a causa di queste accuse dopo un po ci fu l'assoluzione dopo circa un anno scarso ci fu l'assoluzione e allora il romanzo poteva finalmente vedere la luce in due volumi quindi pubblicato in un corpo sunico per intero che dire di questo romanzo su questo romanzo ci sono tantissime cose da dire noi cercheremo di fare una disamina abbastanza breve il tutto finalizzato ad incuriosirvi per poi andare a toccare con mano la bellezza di questo romanzo la profondità di alcune tematiche in esso trattate innanzitutto dobbiamo dire che questo romanzo trae origine da una storia vera una storia vera in quanto il protagonista o meglio il coprotagonista in quanto la protagonista per eccellenza è Emma Bovary la nostra famosa madame il coprotagonista cioè suo marito Charles Baudelaire in realtà è stato ovviamente con un nome diverso è stato un uomo un giovane medico dell'epoca allievo del papà di Flaubert perché dovete sapere che Flaubert viene da una famiglia con il papà che era un noto chirurgo ed anche dal lato dei parenti della madre c'erano dei medici quindi ecco Flaubert è vissuto anche in questo contesto dove la medicina e la chirurgia soprattutto erano all'ordine del giorno e da alcune descrizioni che lui fa all'interno del romanzo riguardo ad un episodio estremamente increscioso spiacevole e che poi porterà diciamo le cose in un certo modo questo episodio che si verifica a carico del giovane medico Charles Baudelaire vi renderete conto dalle descrizioni che Flaubert fa che effettivamente era una persona che aveva vissuto tutta l'infanzia la giovinezza a contatto con dei medici dunque vediamo un po' perché questo romanzo fu attaccato dai pubblici inquirenti per immoralità ed oscerità per il semplice motivo che Emma Bovary era una donna insoddisfatta della vita che faceva ed insoddisfatta del marito che purtroppo si era ritrovata ad accettare ed ha iniziato a cercare dei diversivi questi diversivi consistevano in amanti e consistevano nel fare una vita al di sopra di quelle che erano le possibilità economiche che il povero Charles Bovary poteva fornirle quindi diciamo che fondamentalmente questa donna in un'epoca come la metà dell'ottocento che in Inghilterra era piena epoca vittoriana no come ben saprete questa donna è stata vista come una donna motivo di scandalo nessuno si scandalizzava di quella che era la vita altrettanto incresciosa e altrettanto immorale che molti uomini dell'epoca soprattutto uomini economicamente potenti svolgevano allo stesso modo e qui si aprirebbe il solito dibattito tra le differenze abissali tra il modo di concepire il comportamento femminile e il modo di concepire il comportamento maschile ma vedete c'è una una parte di questo romanzo che ci fa capire che Emma Bovary era una donna oltre che insoddisfatta anche rassegnata a quello che era il suo destino di donna in quell'epoca e sapete qual è quello che accade questo episodio è quello che accade nel momento in cui lei dà alla luce la sua unica figlia quando il marito le dice che è femmina Emma che cosa fa Emma non esulta di gioia Emma sviene adesso vi leggo proprio quel piccolo stralcio di due righe Emma partorì una domenica verso le sei quando si levava il sole è una bambina disse Charles ella voltò la testa e svenne ricordo ancora che nell'originale in francese svenne viene reso con il verbo evanuir evanuir che ascoltato così in italiano dà quasi l'idea di svanire no se volete quindi vedete questa donna sviene si gira dall'altra parte neanche guarda la sua bambina e sviene perché perché era rassegnata a quello che potenzialmente era il destino di ogni donna dell'epoca quindi un destino fatto di differenze profonde tra il concepire il comportamento femminile e il concepire il comportamento maschile quindi già questa tematica è preponderante all'interno di questo romanzo non mi risulta che ci siano stati casi di attacco da parte dei pubblici inquirenti per immoralità e oscenità su romanzi dove magari si facevano riferimento si faceva riferimento a quelle che erano le vite di libertinaggio di molti nobili uomini dell'epoca eppure di questi romanzi ce ne sono stati e quindi ora che altro dire di importante tanto da indurvi a leggerlo innanzitutto lo stile le descrizioni per chi ama i romanzi molto veloci che vanno verso l'azione e che non si soffermano sulla descrizione questo non è il romanzo adatto questo è il romanzo adatto a persone che amano l'estetica a persone che vogliono trovarsi nel luogo nella presenza dei personaggi proprio grazie alle descrizioni approfondite e dettagliate e bisogna dire che Flaubert è un maestro di tutto questo quindi questo qui se amate i libri estremamente descrittivi e che vi fanno sentire in quel luogo in quel momento e davanti a quei personaggi questo è il libro che fa per voi dunque vediamo una attimo io vi volevo leggere adesso qualche stralcio del primo capitolo che è poi l'inizio della presentazione di Charles Bovary cioè il futuro marito di Emma che ci fa già capire come questo poveretto pochi mezzi aveva non tanto a livello economico quanto a livello intellettuale e di conseguenza poi anche a livello economico e questi pochi mezzi tali sono rimasti perché purtroppo viene dipinta questa personalità come una personalità abbastanza mediocre diciamo un po' rozzo un po' sempliciotto diciamo così ecco usiamo questo termine vi leggo l'inizio così capirete vediamo capitolo 1 Madame Bovary parte prima eravamo in aula a studiare quando entrò il rettore seguito da uno nuovo vestito in borghese e da un bidello che portava un grande banco quelli che dormivano si svegliarono tutti si alzarono come se fossero stati sorpresi nel fervore del lavoro il rettore ci fece cenno di sedere poi rivolto all'assistente signor Roger disse a mezza voce le raccomando questo allievo entra in quinta se il suo profitto e la sua condotta lo meriteranno passerà tra i grandi come vorrebbe la sua età il nuovo se ne stava rincantucciato dietro la porta lo si vedeva appena era un ragazzotto di campagna sui 15 anni più alto di tutti noi portava i capelli tagliati di netto sulla fronte come un tierico di villaggio aveva l'aria giudiziosa e molto imbarazzata benché non fosse largo di spalle il giacchettone di panno verde a bottoni neri lo stringeva al giro delle maniche attraverso l'apertura dei risvolti si scorgevano i polsi arrossati avvezzi a stare scoperti le gambe infilate nelle calze azzurre venivano fuori da un paio di pantaloni giallastri tirati dalle bretelle portava scarpe grosse lucidate male e con le suole chiodate cominciamo a ripetere le lezioni egli ascoltava tutto orecchi attento come se fosse alla predica non ardiva nemmeno incrociare le gambe né appoggiarsi sul gomito alle due quando suonò la campanella l'assistente dovette avvertirlo di mettersi in fila con noi avevamo l'abitudine entrando in classe di scaraventare per terra i nostri berretti per aver subito le mani libere bisognava farli volare di sulla soglia fin sotto il banco in maniera che andando a sbattere contro il muro sollevassero molta polvere era la regola ma sia che non si fosse accorto di questa manovra sia che non se la sentisse di parteciparvi quando la preghiera fu finita il nuovo teneva ancora il berretto sui ginocchi era un copricapo di tipo composito nel quale ci si ritrovavano tutte insieme le caratteristiche del cappuccio di pelo del ciapsca della bombetta del cappello di lontra e della berretta di cotone insomma una di quelle povere cose che nella loro muta bruttezza hanno una misteriosa profondità d'espressione come il viso di un imbecille fatto a forma d'uovo senuto su da stecche di balena cominciava con tre cosi che parevano salsicciotti arrotolati quindi continuava con lo sangue di velluto e di pelo di coniglio separate da una striscia rossa veniva poi una specie di sacco che terminava con un poligono foderato di cartone ricoperto da un complicato ricamo di galloni da quale pendeva alla fine di un lungo sottilissimo cordone un piccolo gomitolo di fili dorati una specie di nappa era nuovo la visiera scintillava bene fermiamoci qui già da queste pochissime righe avete potuto notare come Flaubert sia attentissimo alle descrizioni egli stesso diceva di sé come scrittore che era sempre alla ricerca della parola giusta credo che sia chiaro attraverso quello che abbiamo letto questo è un romanzo che io ho amato e amo tantissimo l'ho amato fin da da quando ebbi l'occasione di studiarlo direttamente in lingua originale quindi l'ho amato prima in francese poi in italiano e ho amato i termini usati nel francese e diciamo che ritengo che questo sia un romanzo che un appassionato di letteratura internazionale non può non leggere detto ciò spero di avervi incuriosito e che questa piccola recensione critica possa esservi utile alla prossima